Sottopasso di Villa Pavone, è stato bravo lei a individuare una norma di un decreto del Ministero o c'è stata qualche disattenzione da parte degli uffici? Probabilmente dalla progettista di RFI, che avevano l'obbligo di ottemperare il nuovo codice della strada e che probabilmente sarà stata una svista. Io adesso come sono andate le cose non lo so perché torno a sedere sui banchi dell'opposizione dopo anni di riposo. Nella lettura di quel documento ho visto il problema che si è creato per i cittadini di Villa Pavone, ma non solo per i cittadini di Villa Pavone, ma per tutti i terramani, perché questa è un'opera pubblica che abbiamo ovviamente tagliato il nastro qualche settimana fa. Leggendo un attimino la problematica, approfondendo con le carte con il nuovo codice della strada, ho trovato questo articolo che tecnicamente mi lasciava presupporre che forse c'era uno spiraglio affinché il Comune di Teramo si sganciasse da eventuali corresponsabilità rispetto a chi ha realizzato l'opera e chi poi aveva l'obbligo di controllarla e di chi aveva l'obbligo di renderla conforme al codice della strada. Sì, però se lei non avesse fatto questo intervento, ora il Comune di Teramo avrebbe dovuto comunque compartecipare alla spesa. Ma guardi, io sono convinto che i tecnici comunali sono bravissimi. L'unica cosa è che devono essere tenuti nella giusta considerazione e devono essere ascoltati. Quando un tecnico solleva un problema bisogna approfondire quel problema e verificare se ciò che viene segnalato è corretto o non è corretto. Come l'ho fatto io, non l'avrà fatto, sicuramente ne ha conoscenza, quantomeno condivide il problema all'ingegnere Manetta che è una persona di alto profilo e che meriterebbe anche di essere tenuto nella giusta considerazione. Benissimo, tutti bravi. Ricordiamo allora le due ordinanze della ZTL che hanno profili di illegittimità. Io non so se hanno profili di illegittimità. Leggendo le ordinanze manca un passaggio fondamentale che è la delibera di giunta. L'ho sollevato, a tuttora mi sembra che le ordinanze sono ancora vigenti, quindi non so se il segretario comunale avrà fatto le sue verifiche e avrà riscontrato che sono legittime e non sono illegittime, altrimenti avrebbero già fatto una delibera di giunta per correggere l'ordinanza e quindi per modificarla. A legge la Corte dei Conti? Io non so se un cittadino, se i cittadini, se nel caso fosse ciò che ho letto, fosse riscontrato e quindi ci fossero i presupposti di illegittimità, non so se chi ha preso una multa, se chi in questi periodi ha subito le difficoltà di una ZTL con un'ordinanza illegittima potrebbe ovviamente, non so, se rivalersi, se ci sono le condizioni, se c'è una prescrizione questo non glielo posso dire.